buongiorno a tutti sono Vincenzo Barbieri CMO di Planetic Italia e oggi sono con Antonello Aiello ciao Antonello buongiorno buongiorno Nicolò oggi vi vogliamo introdurre a una interessante opportunità su un dottorato di ricerca che Planetech sta finanziando sul dottorato nazionale di osservazione della terra e che rientra all'interno delle attività di Planetic Italia dell'Academy di Planetic Italia cioè quella di voler sostenere comunque come iniziativa proprio di Planetech nel suo statuto la crescita dell'informazione geospaziale quindi nell'ambito di queste attività Planetech sta finanziando una serie di iniziative tra cui anche questo dottorato a questo punto chiedo ad Antonello che è il nostro referente nell'ambito del dottorato di isolazione nazionale della terra di raccontarci meglio questa opportunità Antonello grazie Enzo allora il dottorato nazionale in osservazione della terra è un programma dell'università di Roma la Sapienza che vede Planetech come partner industriale il programma si concentra sull'uso di dati satellitari e su altre altre fonti di informazione per studiare l'ambiente terrestre e sviluppare soluzioni innovative per la gestione delle risorse naturali quindi l'obiettivo del programma è quello di formare dei ricercatori altamente qualificati nell'ambito dell'osservazione della terra gli studenti gli studenti durante il loro percorso dottorale avranno la possibilità di acquisire competenze avanzate nella raccolta e analisi interpretazione dei dati satellitari per affrontare le sfide ambientali che abbiamo di fronte a noi il cambiamento climatico la gestione delle risorse idriche la pianificazione sostenibile del territorio per essere ammessi al dottorato nazionale in osservazione della terra gli studenti devono possedere una laurea magistrale in discipline scientifiche e tecnologiche che siano chiaramente in qualche modo correlate all'ambito dell'osservazione della terra e inoltre è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e la presentazione di un progetto di ricerca Planetech come dicevo è membro industriale del programma ha già finanziato una borsa dottorale nel 38esimo ciclo e in questo che si sta per avviare il 39esimo ciclo finanzia una borsa per attività di ricerca afferenti a due tematiche di interesse la prima riguarda i Physically Informed Model for Earth Observation mentre la seconda tematica afferente a questa borsa di ricerca riguarda l'Artificial Intelligence for Iride Mission Perfetto, grazie Antonello Antonello ha già introdotto che su questa borsa di studio abbiamo ipotizzato, abbiamo proposto due temi di ricerca entrambi connessi al processing dei dati telerilevati da satellite con tecniche di intelligenza artificiale e tutto questo è anche finalizzato a migliorare la nostra capacità di processare i dati di osservazione della Terra anche in una logica dei dati che verranno dalla costellazione Iride dove Planetech è un attore, diciamo, tra i principali attori a livello industriale nel erogare servizi prodotti realizzati utilizzando i dati prodotti dalla costellazione di Iride quindi a questo punto chiedo a Nicolò Stagio che è il nostro collega che in Planetech coordina le attività sull'uso dell'intelligenza artificiale per il processing dei dati geospaziali di introdurci a queste due tematiche Antone, Nicolò, scusa Sì, grazie, grazie Enzo Sì, queste due tematiche che abbiamo proposto come dici tu Enzo hanno un filo conduttore comune l'uso dell'intelligenza artificiale per i dati di osservazione della Terra la prima tematica verticalizza di più gli aspetti dell'intelligenza artificiale ed è più generico nell'ambito dei dati di osservazione della Terra mentre il secondo tema verticalizza di più sui dati di osservazione della Terra la costellazione Iride mentre è più generico per quanto riguarda gli algoritmi di intelligenza artificiale la prima tematica che è quella del Physical Informant Model for Earth Observation cerca di rispondere ad una domanda possiamo utilizzare la conoscenza a priori che abbiamo dai dati di osservazione della Terra per migliorare le tecniche di intelligenza artificiale quindi banalmente quando per esempio vogliamo fare una banale classificazione dell'uso del suolo gli esperti del dominio sanno già qual è la firma spettrale della vegetazione non deve essere un algoritmo di intelligenza artificiale una rete neurale che deve tra virgolette sforzarsi per capire qual è la firma spettrale di una vegetazione e classificarla noi possiamo utilizzare da esperti del dominio tutto quello che sono i modelli fisici quindi qual è la conoscenza che abbiamo a priori di questi dati per migliorare l'intelligenza artificiale, la rete neurale questo ci permette di migliorare uno dei maggiori problemi che abbiamo cioè quello di rendere generico e generale il nostro modello ad oggi i nostri modelli di intelligenza artificiale per i dati di osservazione della Terra funzionano in modo molto locale quindi se ci spostiamo geograficamente dal luogo in cui abbiamo utilizzato i dati i modelli iniziano ad avere dei difetti con l'introduzione della conoscenza a priori noi possiamo migliorare questo aspetto quindi la tematica 1 è molto focalizzata sull'utilizzo dei concetti fisici per migliorare l'intelligenza artificiale il secondo aspetto invece è quello che riguarda la missione Iride la missione Iride, come avete anticipato ci fornirà una mole di dati impressionante ad oggi un altro dei problemi che abbiamo nell'ambito di osservazione della Terra è saper trattare questi dati in modo efficiente, efficace e ottimale l'intelligenza artificiale quindi come ci può aiutare nel rendere più scalabile tutte le nostre metodologie basti pensare a una, di nuovo, classificazione globale del nostro territorio ad oggi è una sfida veramente molto complicata con i dati che abbiamo quindi la seconda tematica è rivolta ad aiutare tutte quelle service value chain che chiamiamo nel progetto Iride quindi tutte quelle applicazioni nell'ambito dell'osservazione della Terra l'intelligenza artificiale ci deve aiutare a rendere scalabili e ottimali queste applicazioni perfetto, grazie Nicolò quindi diciamo i ragazzi laureati con laurea magistrale che sono interessati ai temi dell'intelligenza artificiale e all'applicazione di queste tecniche ai dati di osservazione della Terra possono trovare una grande opportunità in questo dottorato di ricerca, in questi due temi che noi abbiamo proposto tra l'altro anche da un punto di vista organizzativo Planetech diciamo può essere una grandissima opportunità anche per chiunque viene da tutta Italia perché grazie al fatto che operiamo in smart working diffuso quindi diciamo è possibile operare anche da remoto organizzandoci al meglio e quindi diciamo con un minore impatto anche sulla vita delle persone quindi questo è un aspetto molto importante che stiamo applicando non soltanto a tutti i colleghi di Planetech ma anche a tutti quelli che hanno borse di studio e di dottorato e quindi diciamo possono soffrire di questa modalità operativa che noi applichiamo a questo punto Antonello vuoi darci qualche informazione in più su come poter partecipare a questo dottorato? Assolutamente Per quanto riguarda la procedura concorsuale i candidati vengono valutati in base ai titoli accademici e ad una lettera motivazionale chiaramente secondo i criteri che sono specificati nel bando di ammissione al dottorato quindi il curriculum studiorum è la lettera motivazionale che deve contenere informazioni sulle idee sugli obiettivi della ricerca proposta dal candidato dai candidati per una delle due tematiche di cui ci ha parlato poco fa Nicolò ed anche evidenziare le esperienze le competenze funzionali allo sviluppo dell'attività di ricerca è obbligatoria la presenza di una prima lettera di presentazione a cura di un docente e poi se ne possono presentare anche una seconda e una terza ma queste due sono facoltative la documentazione deve essere inviata entro le date specificate dal bando quindi il 20 luglio alle ore 14 e poi i primi di settembre sarà pubblicata la graduatoria degli ammessi ai colloqui orali tutte le informazioni sono disponibili sia nella sezione opportunità di lavoro del sito di Planetech Italia altresì sul sito dell'Università La Sapienza di Roma nella home page e nella sezione dedicata ai bandi di ammissione ai dottorati per l'anno accademico 2023-2024 Perfetto, ti ringrazio Antonello bene, allora a questo punto un invito a tutti i ragazzi che sono interessati a questa tematica fate il prima possibile nel senso che sono pochi i giorni che restano da qui alla scadenza del bando se avete bisogno comunque di chiaramente di informazioni non esitate a contattarci perché siamo a vostra disposizione per fornirvi altre informazioni rispetto a quelle che abbiamo potuto darvi in questi pochi minuti e a questo punto vi ringrazio a tutti grazie Antonello, grazie Niccolò grazie a te Enzo a voi grazie a te Enzo